i poligoni che possiedono quattro lati e quattro angoli sono i quadrilateri a differenza dei triangoli che sono strutture rigide i quadrilateri sono strutture articolabili con gli stessi lati si possono ottenere figure diverse a partire da un quadrilatero generico se poniamo due lati opposti paralleli tra loro otteniamo un trapezio quando i lati opposti sono paralleli e congruenti abbiamo un parallelogrammo modificando questa figura possiamo ottenere un rettangolo nel quale i quattro angoli interni sono congruenti e sono tutti angoli retti se costruiamo un quadrilatero con i quattro lati congruenti otteniamo un rombo possiamo modificarlo rendendo congruenti e retti i quattro angoli e otteniamo un quadrato la classificazione dei quadrilateri può essere rappresentata con un diagramma di eulero ven che evidenzia sotto insiemi e intersezioni